Broadway 1936 Chi è il burattino? Chi è il burattino? Chi è il burattino? Chi è il burattino? Stop! Se la vostra bocca si muove, l'effetto è rovinato. Era un tempo in cui artisti come Orson Welles, John Haussman e Diego Rivera volevano cambiare le regole. Sono Nelson Rockefeller. Ho scelto il suo bozzetto per il pannello da frescare nell'ingresso di quello che sarà il Rockefeller Center. Mentre un nuovo giovane autore e la sua commedia stavano per cambiare il loro mondo. Lei ha scritto qualcosa di veramente innovativo. Io credo che mai un musical americano si sia confrontato con temi di così alto contenuto sociale. Ma quando Washington decise di farli chiudere, ebbe inizio il vero dramma. Il nostro sindacato ci ha proibito la rappresentazione. Se andiamo in quel teatro potremmo perdere il lavoro. Dal contestato regista Tim Robbins... Questi sono gli Stati Uniti, non è la Russia. Una storia straordinariamente vera. Per la prima volta nella storia americana il governo ha mandato delle guardie armate a impedire la rappresentazione di un'opera teatrale. Anne Casaria, Ruben Blades, Joan Cusack, John Cusack, Carrie Elwes, Angus McFadden, Bill Murray, Vanessa Redgrave, Susan Sarandon, John Turturro ed Emily Watson. E adesso tutti vari di qua! Il prezzo della libertà. Grazie a tutti!